ehi la benvenuti in questo primo video parlato speriamo ce ne siano anche altri questo però dipenderà dalla regia se ci sarà qualcuno che avrà voglia di filmarmi e io sono qua abbiamo deciso oggi in questo periodo esageratamente strano di venire a esplorare le scalinate di Cuneo è una città piuttosto piatta ma stranamente sono presenti diverse scale e abbiamo deciso oggi di venire a provarle e vediamo cosa possiamo trovare andiamo a screddare un po' queste sono le scalinate che andremo ad affrontare wow che paura cambiamo luogo ok basta ok 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 Grazie a tutti. Siamo arrivati alle scalinate più brutte della storia, questa cosa. Bene, siamo tutti alla conclusione di questo video fighissimo, perché è figo. Spero vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, se non è così lasciatelo lo stesso. Iscrivetevi al canale e basta, ci vediamo al prossimo video. Grazie. Grazie.